A volte molti pensano, se non hai un buon tenore di vita, se vesti modestamente, se sei poco conosciuto in determinati ambienti, se non sei più giovane, se non hai potere economico e sociale rilevanti o di una professione particolare, non interessi praticamente a nessuno. Ma in fondo che importanza ha? Perché dovremmo apparire interessanti se spesso non lo siamo nemmeno per noi stessi? Bisognerebbe invece scandaliare la nostra mente per capire in profondità quali paure limitano così la nostra intelligenza da spingerci a cercare di apparire interessanti. Il desiderio di essere interessanti limita anche la nostra visione della vita. Essa va considerata nella sua totalità e potrebbe diventare interessante il modo con cui osserviamo i nostri processi mentali senza giudicarci, la dinamica dei nostri pensieri e come vediamo gli altri ed interpretiamo gli eventi.